Corsa chiusa. I cavalli vengono lanciati all'autostarter. Ratatouille Font e Ramada le più veloci. Ramada scavalca Ratatouille Font. Intensa posizione Rasin con all'esterno il numero 6 di Rambadis Grey. Quindi Regius, Fallosa, Royal Cosmos Biggie che rimane staccata. Rambadis Grey si porta all'attacco di Ramada. In seconda posizione sempre Ratatouille Font. 29 per i primi 400 metri. Ramada, Ratatouille, Rambadis Grey, Rasin, Regius. Queste le posizioni. Primi 600 metri, percorsi dalla Lider in 44.2. Rambadis Grey si avvicina e tiene cusa la corda Ratatouille Font. Bene in mano a Vincenzo Venezia. Regius segue le mosse di Rambadis Grey. La Lider sulla retta di fronte allunga. 59.8. I primi 800 metri. E Ratatouille Font così è la destra libera. Ma Regius avanza a centropista e la va a coprire e si porta tra Ramada e Ratatouille Font. Il primo chilometro percorso in 1.15.2. Ramada sempre al comando, seguito dalla coppia Ratatouille-Regius. Più staccati gli altri con Rembrandt di Rey che cerca di risalire posizioni. Quindi Rasin fuori corsa agli altri. Siamo su finire l'ultima curva. I cavalli entrano in dirittura d'arrivo. E Ramada è sempre leader. Con in schiena Ratatouille Font e all'esterno Regius. Ratatouille cerca la destra libera. Regius non glielo consente. Ma perde contatto e così si libera Ratatouille. Ramada allunga. In seguita da Ratatouille a centropista. Ramada e Ratatouille. Testa a testa tra i due. Ratatouille e Ramada. E sul palo le due termano apparigliate. Ma Ratatouille mette proprio il muso davanti all'avversaria. E si impone in 2-1. 15-6 la media. Successo quindi di Ratatouille Font. Davanti a Ramada. Terzo Regius. Ratatouille Font 2-53. Il colore del signor Raffreddo Bonanno. Il training di Massimo Saiello. La guida di Vincenzo Venezia. Ratatouille Font. Una femmina da Yankee Slider e Clet. Che pone il suo sigillo nella corsa d'apertura al Mediterraneo di Siracusa. Di questa giornata gentleman. Quindi l'ordine ufficioso di questa prima corsa è 2 Ratatouille Font. 5 Ramada. 3 Regius.